Buongiorno, mi chiamo Sergio Basso e per l'Istituto Confucio e i suoi aficionados in questi tempi sospesi di quarantena, ho pensato di condividere la seguente lettura con tutti voi, si tratta di Cuo Ruo Su, note di quello che ho visto e udito in pittura, Tu Qua, Jien Mangie, è un testo del Vado a Memoria 1074, quindi siamo sotto i son settentrionali, il mercato della pittura, un po' come il mercato dell'arte contemporanea, conobbe un boom pazzesco, un sacco di gente ci voleva investire e quindi tra gli anni 60 e 70 dell'undicesimo secolo uscirono diverse storie dell'arte, come portolani, come manuali opli per i nuovi investitori in gallerie d'arte, voi mi direte, ma è che ci stai a proporre, già siamo relegati in casa, ci stai a proporre un manuale di storia dell'arte a leggere? Non è esattamente così, perché Cuo Ruo Su ebbe un'idea pazzesca, cioè compirò quello che in realtà è un diario, un diario di visioni, sensazioni polaroid, di artisti a lui contemporanei e anche di pittori del passato. Poi penso che possa essere una bellissima bustina di Minerva per i nostri tempi, perché ha il coraggio di parlare anche di che cosa stiamo cercando nella nostra vita, che tipo di ricerca artistica vogliamo fare, cosa vogliamo consegnare alla generazione successiva e come possiamo o vogliamo fare tesoro del retaggio e dell'ascito della generazione precedente. È insomma una sorta di vasari 500 anni prima e un diario pazzesco del cuore di un uomo di mille anni fa e quindi penso che possa essere una lettura emozionante e in più il libro è anche molto bello, il curatore ha cercato le immagini dei dipinti di cui l'autore parla, compito non semplicissimo perché abbiamo perso molto della pittura cinese del primo millennio d'epo Cristo perché il più grande collezionista era l'imperatore, all'epoca i musei per così dire, le collezioni erano in padironi linei facilmente soggetti a incendi e quindi si è perso moltissimo, ecco perché è un faro, un bagliore nella notte, vuoro su, note su quello che ho visto e udito in pittura. Vuoro su, dicevamo, note di quello che ho visto e udito in pittura, che brano ho scelto, ho scelto il prologo perché è quello in cui l'autore si mette a nudo e ci svela perché ha deciso di creare un diario delle sue visioni. Metto gli ucciae e penso e spero che queste righe possano essere utili e ispiranti in queste giornate di seclusione. Mio nonno, malgrado il posto elevato che aveva nella gerarchia burocratica, era molto felice di condurre una vita frugale e ritirata per comportarsi con diletto e, durante i momenti liberi dai lavori pubblici, si dedicava solamente alla poesia, alla calligrafia, alla cetra e alla pittura. Il mio defunto padre, che se ne andò molto giovane, continuò questo esempio ammirevole. Grazie al suo giudizio critico chiaroveggente, la collezione non perse la sua qualità. Già che io non fui capace di occuparmi di lui come avrei voluto, non posso parlarne senza emozionarmi. In seguito diversi membri della famiglia si sono accaparrati questi tesori, così nel tempo la collezione, che non era stata conservata sotto chiave, fu a poco a poco dispersa. Quanto alla mia indegna persona, sono lontano dall'uguagliare i miei illustri parenti e, alla stessa maniera, non avrei potuto tesalizzare nel cuore i tesori che avevano riunito. Purtroppo gli anni della mia gioventù passavano, me ne rimanevano pochi. In questi ultimi anni allora ho cercato e riacquistato i pezzi che erano andati perduti in cambio di altri oggetti preziosi con dei familiari. Ho riacquistato così più di dieci rotoli dei tesori che erano stati trasmessi di generazione in generazione e ogni volta che mi siedo nella calma del mio giardino ne appendo uno contro un muro bianco per tutta la giornata e resto in una comunione tranquilla, in estasi e non sono più cosciente che esistano la grandezza del cielo e della terra né la quantità delle complicazioni del mondo. Sono ancora meno disturbato dalle eventualità del favore o della disgrazia del mondo del potere e del profitto. Né mi preoccupo di congetturare sulle mie possibilità di successo, di smacco. Può succedere che degli amici vengano in visita. Estraiamo allora alcuni dei pezzi di mio padre, ne discutiamo, ne apprezziamo il valore, li compariamo così che aumentiamo le nostre reciproche conoscenze, circa i pittori di cui ho deciso di parlare. Le opere di alcuni erano poco conosciute all'epoca e la loro reputazione non era ancora acclamata da tutti, doveva aspettare la posterità. Ho esaminato le note sui dipinti di differenti maestri, la maggior parte di esse sono presentati e classificati nella storia che ho scritto. Alcuni giovani erano timorati all'inizio ma poi sono diventati solidi andando avanti in età. Altri all'inizio erano attivi e poi sono diventati contemplativi. Ecco perché ho deciso di non fare una nuova classificazione qualitativa ma solamente sulle loro capacità, sulle loro potenzialità e sugli aneddoti che ho radunato sulle loro vite, che meritavano di essere scritti, raccontati. Quindi ho chiamato questo lavoro note su quello che ho visto e ascoltato in pittura.